Quando ho conosciuto Weinstein ho percepito subito la sua potenza, Elisabetta Gregoraci racconta l'incontro con il produttore, si capiva che era un uomo che incuteva rispetto e timore. Lui si presenta in modo gentile e meno. Quando ho conosciuto Harvey Weinstein posso dire che ho percepito la sua potenza del mondo del cinema proprio in quell'occasione. Si capiva che è un uomo rispettato e temuto all'interno del magico mondo del cinema americano. Così Elisabetta Gregoraci racconta in esclusiva al settimanale Chi il suo incontro con Harvey Weinstein, il potentissimo produttore hollywoodiano travolto dal più grande scandalo sessuale della storia del cinema. Weinstein è accusato di aver molestato e addirittura violentato molte attrici e modelle che hanno lavorato per lui. L'incontro con Elisabetta Gregoraci è avvenuto a Los Angeles lo scorso marzo, dove lei presentava il suo primo film da attrice protagonista, Mata Hari. Ero a Hollywood per presentare Mata Hari a Los Angeles Italia, film, fashion and art fest. Con Harvey ho scambiato poche parole, racconta la Gregoraci a Chi. Io mi baso su quello che tutti abbiamo letto. Altro non posso aggiungere, perché non sono a conoscenza dei fatti. Certo, lui si presenta in modo gentile, diverso dai racconti di questi giorni, e poi è molto amico di mio marito Flavio Breatore e di Giuseppe Cipriani. Si conoscono da anni. Per quanto riguarda le accuse gravissime che muovono a Weinstein preferisco non parlare. Non conosco la situazione. Posso solo basarmi su quello che tutti abbiamo letto, ma se fosse vero, stiamo parlando di una brutta pagina non solo del cinema, ma della vita. Per quanto riguarda i